...cara Sensoli, con i numeri. Io non so se Povia che gli ha scritto l'intervento, o non so se Povia che gli ha scritto l'intervento. Mi dà l'idea che lei leggendola non sa di cosa parla. Mi dà l'idea che lei non sa di cosa parla. Allora, io sarò molto breve. Io pretendo le scuse del Presidente per l'offesa all'intelligenza fatta a me e al Movimento 5 Stelle, perché lei non si deve permettere nella sua posizione di dire che gli interventi me li scrive chi che sia, dandomi praticamente dell'incompetente, della poca intelligente, della non so nemmeno io che cosa, non se lo deve permettere. Lei se lo vada a riascoltare, se non l'ha ascoltato bene, non basta ascoltare, bisogna capire cosa si dice. E se lei dice che viviamo in Emilia Romagna, bene, ci viva anche lei. E vada in mezzo alla gente che tutti i giorni si trova in situazioni disperate, poi ne riparliamo. Guardi, io non ho nulla di che scusarmi, perché non l'ho offesa.